Come diceva prima Sara, abbiamo lanciato questo contest, interagite anche voi. Pugin��o valutina vamos trasmT Stemm, stemm, stemm Stemm, stemm Stemm, stemm Spai, spai Diego M squ- Ha 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 Stemm Dio edia Ma lei ne sembra normale? Ma lei ne sembra normale quello che ha fatto? Ma perché? Cosa è successo? Ma chi sta male? Ma chi sta male? Ma chi sta male? Ma chi sta male? Ma che fa? Se mi lanciano... Se mi lanciano... Se mi lanciano mi manchino... Scusi, il signor Zucchero è amico mio, lo lasci stare. Sì, perché è amico d'ora. Ma se pensate che stasera è il vostro. Ma perché è così nervoso? Ha attaccato il picciclino. Ma dove è il suo figlio? L'hanno arrestato. L'hanno arrestato. C'è una vergogna. Ma che cosa ha fatto? Avrà fatto un reato. Non lo deve mettere. Ma dico, per arrestarlo avrà fatto un reato grave. Cosa ha fatto? Ci mi diceva di andare a provvisore. Musica, DJ. Ma musica che cosa? Musica, DJ. Ma che cosa è? Con le mani. Ma io dico, ma dove siamo arrivati? Seppure a me non mi fai... Oh, te! Stacca! 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 Stacca, stacca! Ma io dico, siamo in uno studio televisivo, gente che entra con le mani. Ma cos'è? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Ma come ti è finito? Come ti è finito? Come ti è finito? Ma io dico, vedi cosa fa fare le cose che non si devono fare? Si fa male, mi portai il motorino. Ma chi è che è? Ma come si è? Ma chi sta a fare? Ma chi sta a fare? No, è grosso quello, lascialo perdere. Ma chi sta a fare? Ehi... Pataliari, tutti che ti vuoi. Tutti che ti vuoi. Tutti che ti vuoi. Ma io dico, intanto non si possono inquadrare le manette. Vogliamo oscurare, scusate, regia. Oscuriamo le manette. Ma perché è che è offesa? Ma non è che è offesa. Non è che uno può entrare. Non è che uno può entrare. Non si possono inquadrare le manette. Non si possono inquadrare le manette. Ma che non avevamo un segretto? Deci dire. Deci dire, signor. Ma perché lei sa aprire le manette? Papà, lei mi ha messo le cose con la... Ma che cos'è sta cosa rosa? Eh, paparietto, non ti scandalo, papà. Non scandalo. Scusate, mi volete fare capire che sta... Sono un attimo ma con te, papà. Eeeh! 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 Ma quanto è giù bene! Non ce l'è più, sai che frisca? Scusami, è pacchiotto, perché è pacchiotto. Cosa ha fatto? Ha massato... Aspetta, aspetta, aspetta. Scusi, signor Nuccio. Prego. Allora, guardate che l'uno come mi mette le mani da faccia, foste tu io, va bene. Ma è vero, a me stavo sistemando il microfono. Mi spiega cosa è successo? Spieghiamolo anche al nostro pubblico. Tutto a posto? Io ero ora a due paesi ammazzato, diciamo, in Trasvena. In? In Trasvena. A Cesena? A Cesena c'è Tosoro. E tu non ho capito, dove stai? Ah, come si dice? Quando uno paga una banca. Ah, in Trasferta? Eh, a Cesena c'è i congole. I congole? I congole. I congole? I congole, chi era? I congole. I congole? Come si chiamano? A scuola? Le vongole. I congole. Ah, a Venezia. A Venezia. Ah, a Venezia, sì. Come sta chiamato sopra un motorino. Ma perché ci sono i motorini a Venezia? Che fai motorino? Perché ne andiamo solo... Dico, ma ci sono le barche, là si spostano con le barche. E non era una vacca a motorino. Ah, una vacca a motorino? Sì. E allora la sua vacca a motorino. E' una vacca a motorino. E' una vacca a motorino. E' una vacca a motorino. Ma quando mi vuoi darei un motorino, dopo un barche mi accano, ho riuscito a fare un cerniere dopo, mi faccio un mare che mi c***o, come ad Catania. C'è a Catania, che pensate? Così, ci sono girate, il motorino che mi vuoi darei. Come si è girate, lo sono portate. Giù, non si può fare per me. Ma per me. Ma perchè? Ha rubato il motorino, no? Con chi ce l'ha? Ma chi sta dalle armi? Ma chi sta dalle armi? Ma chi sta dalle armi? No, ma state male pure voi però eh! C'è un malanzino che sta dalle armi che ti sta canzionando tutto male. Ma sta guardando la trasmissione! Si è guardando la trasmissione! Ammazzare! Sta guardando la trasmissione! Viene uno pesante, è una specie del giapponese, i tizianici. Viene da allora, tu 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 tu! Quello ti aveva fatto la fotografia del nord. E hubo una macchina fotografica? Diache a questo di fare una slica a terra. Tu fai foto! Questo che credo non c'era difficile. Stiamo facendo questa fotografia. Ottimo la macchina fotografica, ahahah! Ora ci sono questo il pallet. Tu 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 tu! Tu 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 tu! Ti portai che ti si occupi! Ma tu compagni, tu essere sicilii. Mafioso! No, questo no, no, come si permette, come si permette. Tu sei mafioso, tu ammazzi persone. A lei, a lei cosa sta facendo? Ma si è messo in conto? Diccelo! E lei cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ah, ha cominciato! Lei cosa ha fatto? Ti voglio questa faccia da andare così, ha solo le piatte. Ma perché? Cos'è come ha usato le piatte? No, non lo voglio sapere. Cos'è? No, no, no! Se la tiene una calmata. Te ne resta tante pommate. Se la prendi con il suo figlio. Si la spaccata adesso. Si la spaccata adesso. Si spaccata adesso, non potremo venire qui. Hai ragione. Perché il ghiro non ha smesso. Si, hai ragione, è muscolato. Ma spi, è pure vero, no, non è il ghiro, perché c'è un po' niente. Ci fa un po' niente. Ci pensa lui, ci pensa lui. Domane... Si? Domane tu sai che fai? Si, cosa devo fare? La paligia? La paligia che vuole appena pari di mese. Dove devo andare? La paligia che vuole appena pari di mese. Lei è così violento, sempre con questa violenza. Si è successiva. Siete mafiosi. Si. Tu spari, tu mafiosi, tu... No, non è che sono cose belle. No, non è che ci sono cose belle. No, non è che ci sono cose belle. Non è un euro stamattina. Ma vai vedo. Siete proprio un'armonia. Tu ti fai un po' niente. Perché al pifo male non puoi sparare. Non puoi sparare. Che sta scherzando? Non puoi sparare. Ah va, io non ce la smetto. Dai, la smetto. Ti facciamo pari di mese. Eh Sara, guarda il giocolatino d'amico. Cortesemente. Siccome Sara è una donna educata, elegante, deve parlare con eleganza. Robietto, vedi che stanno i cani. Chi è che lo c'è? Un ghiacca cane. Chi? Un ghiacca cane che se lo ha buttato con il capo. Perché cosa vede perché? Perché è a tosto. No, no. Mi piace mettere le cebollette. Ma... Perché lei gioca. Lei è ludopatico. No. Lei è ludopatico. Ma mi piace mettere le cebollette della luce. Starebbe giocando il cuoio. Pensavo che erano le bollette del... Vincuati Stefano! Si. Avvicina la canzone Vincuati Stefano. Ecco qua. Che è sta cosa? Ma è imbazzito! Allora... È ai, 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 ai! Cassano stai massimo. Cassano stai massimo e ma eins fermi. Passi. È ai, 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 ai! Chi è oseCu. Chi è oseu results. Chi è ose spazio. Grazie a tutti.